L'avventura europea dell'Inter Under-19 riparte dal Breda di Sesto San Giovanni. Amici di InterTV, un saluto da Alberto Santi. Immagini che vi arrivano direttamente dalla prima grande sfida di questa stagione aspettando i grandi l'Under-19 di Armando Madonna se la gioca con il Tottenham. Bennette fa correre sulla destra Ioma che può andare al cross basso. In mezzo la palla passa, prima occasione per il Tottenham con Rawls. Pompetti, filtrante ancora per Merola, questa volta la posizione regolare. Merola può puntare la porta, palla sul sinistro, Merola in diagonale. La strozza troppo e spreca la prima grandissima occasione per l'Inter. Sulla destra arriva Persin che un'ala è a gamba. Prova Persin ad arrivare sul pallone, ci riesce. Tempo reggia, torna in mezzo, palla un po' corta per Mulatieri, diventa buona per Colidio. In aria Colidio! La mette nell'angolino. Al terzo tentativo i Nerazzurri passano in vantaggio con l'uomo più atteso. Facundo Colidio, Inter 1, Tottenham 0. Dekic che va a rinvio nella zona di Mulatieri, non riesce a staccare per l'intervento di Ioma. Poi Pompetti in verticale, la posizione di Colidio è regolare. Colidio è sfortunato nel rimpallo, non esce Austin che poi riesce ad arrivare sul pallone con la gamba destra. Palla verso Pennet, pronto al solito cross basso in mezzo, Vanden Heind col piattone Ioma, calcia con il destro. La palla non termina troppo lontano dal palo. Aspetta l'arrivo del numero 7 che guarda la porta, va filtrante in mezzo da Perlott che si lascia cadere con enorme facilità e l'arbitro da calcio di rigore. Si lascia clamorosamente cadere l'attaccante del Tottenham. Parte Rawls, spiazza Dekic, palla sotto l'incrocio, pareggia il Tottenham al cinquantottesimo. Bennett, limite dell'area, palla per Magoma, cerca Brown dall'altra parte, prova a uscire Dekic che riesce con il volto a parare il tocco sotto. Skip, entra in area di rigore, Skip va sul destro, Magoma, palla deviata, Dekic, risposta corta e poi è bravissimo il serbo a rialzarsi, riprendersi il pallone. Occhio che sta per arrivare un giallo, vediamo per chi è, vediamo per chi è, è di Perlott, ma Perlott era stato morito nel primo tempo. E il secondo giallo per Perlott, espulso Tottenham in dieci, parte palla al piede, prende il fondo, è pronto al cross, palla deviata, diventa buona per Colidio, destro di Colidio. Palo pieno di Colidio, rimasta con le mani per l'Inter, Grassini subito in avanti, cercare Salcedo, difende il pallone, fallo di Luis Binx. Calcio di punizione, giallo a uno, giallo all'altro, è il secondo giallo per Salcedo, Inter in dieci, esattamente come il Tottenham. Triplice fischio da parte di Monucca, con più di qualche rimpianto per i Nerazzurri, tra le occasioni sprecate e un rigore assolutamente inesistente, finisce uno a uno.